Ciao a tutti ragazzi, benvenuti qua in un nuovissimo video del pazzo del tubo ragazzi mi scuso in primis per questa voce ma non so davvero bene ho avuto una forte febbre e... no, sto bene, scusate ragazzi oggi vi volevo parlare dell'operatore che si è appena rivolto sul pubblico italiano sto parlando di Ilia Iliad ragazzi è un operatore non virtuale ma con delle sue infrastrutture proprie con dei suoi negozi, con dei suoi totem, dei simbox che in pratica questi simbox posizionati nei centri commerciali in quasi tutta Italia potete andare a compilare i vostri dati pagare con una carta di credito Visa e avere la vostra sim data da questo totem ci sarà un operatore Iliad per ogni simbox che vi potrà aiutare se siete in difficoltà Iliad ragazzi prende su quasi tutto il territorio italiano in pratica Iliad si è aggiudicata con un bando le infrastrutture che si sono lasciate lasciate liberi dall'accordo con la fusione con Wind E3 hanno lasciato quindi le infrastrutture di Wind E3 con la loro fusione si sono liberate e rimanevano vuote Iliad le ha acquistate e quindi sono proprie infrastrutture dove non riescono ad arrivare le infrastrutture Iliad ha Iliad ha fatto un contratto, ha stipulato un contratto con Wind E3 SPA che dice che può operare su 100% di tutte quelle infrastrutture ragazzi l'offerta per il primo milione di clienti Iliad è questa andiamo sul sito ufficiale www.ri.it offerta Iliad 5,99 al mese per sempre 30 GB in 4G+, minuti illimitati, sms illimitati minuti illimitati verso oltre 100 destinazioni minuti sms illimitati più 2 GB dedicati in Europa perché è un'unica della rivoluzione Iliad il limitato è pieno di giga ha un prezzo imbattibile un offerto senza vingoli senza grosse sorprese una rete di qualità in 4G+, ragazzi poi io ho fatto un contratto con Iliad pagando 9,99 di attivazione della sim e 5,99 mesi che mi verranno adibitati sulla mia carta di credito Pisa con il circuito bancario Pisa qua come possiamo vedere mi dice le chiamate che ho consumato 2 minuti e 28 secondi 0 sms ho consumato 43 MB su 30 GB disponibili nella promozione 0 MMS consumo totale 0 e credito residuo 0 ragazzi io su questo telefonino che sto registrando non ho la sim Iliad perché non volevo come si può dire non volevo avere non fare la portabilità non volevo farla la portabilità perché io ho questo qua il mio cellulare principale ho una sim wind e mi trovo molto bene ho comprato un nuovo cellulare ho acquistato un nuovo cellulare ho stipulato un contratto con Iliad e mi trovo benino noi ci rivediamo qua con un prossimo video sempre sul Passo del Tubo parleremo di TV della serie A perché ci sono degli importanti sviluppi e qui dal Passo del Tubo è tutto bella a tutti ragazzi